Ennesimo attacco dei lupi in un'azienda agricola del Valdarno, 11 le pecore uccise, 2 quelle che risultano disperse. Le pecore, cioè i recinti, dovrebbero stare da sé e noi fare gli altri lavori. Invece siamo costretti a guardare le pecore dentro i recinti e anche stando attenti quanto mai più possibile, ci fregano guardi. Siamo in località Ascione, nel comune di Terranova Bracciolini, nell'azienda agricola di Edigio Marcia. Gli attacchi qui sono frequenti, solo lo scorso anno sono stati uccisi 80 capi dai predatori. Nell'ultimo caso, ci racconta Edigio, c'è stato sicuramente un branco perché a differenza di altre volte i lupi hanno ucciso, sì, ma hanno anche banchettato. Quando sono stati attacchi magari da una si sono visti anche mentre l'attaccava un lupo attacca una peccola e te l'ammazza anche davanti all'occhio. Però quando c'è queste stragi, per dire come quella di ieri, tutte mangiate, non è che dice sì, quella è morta perché è per un'altra cosa. Tutte azzannate e mangiate. Per me ieri c'è stato il branco. Il branco ci può studiare benissimo in questa zona qui. Le pecore arrivano a Brucalli, viene fuori il lupo da lì, ammazza la peccola davanti all'occhio e gli occhi le possono fare. Il pericolo se le autorità non faranno nulla per evitare queste mattanze è che il lavoro di una vita vada in fumo. Come faccio io ad andare avanti? Se anche ci rimborsano la peccola quando gli torna bene, ma la peccola a me mi rende tutti i giorni. Noi non possiamo fare niente, cioè o ci autorizzano, io non dico di ammazzarlo il lupo, ma almeno di fargli paura di poterli tirare anche per spaventarlo. Ma in questo modo io vedo il lupo ammazzare la peccola e che gli faccio? Gli dico bravo, gli batto le mani anche. Perché è un... E allora il lupo, visto che non è impaurito nemmeno da noi, quindi non posso difendere nemmeno i miei animali.